A Cervinara arriverà il commissario prefettizio, l'unica certezza di tutta questa storia piena di punti di domanda. Dopo la decisione del TAR di invalidare il risultato delle amministrative di maggio 2015 che hanno visto la vittoria del primo cittadino Filuccio Tangredi con una maggioranza di voti del 70%, nel comune Irpino si tornerà al voto. Non è ancora chiaro però se sarà l'intera cittadinanza a doversi esprimere di nuovo o solo gli elettori delle due sezioni, la 7 e la 12, in cui sono state riscontrate le irregolarità come schede scomparse e conteggi errati. Nel frattempo si attende la nomina del commissario prefettizio per la temporanea gestione dell'ente fino al voto. La possibilità di riesprimersi solo in due sezioni sembra oltre che remota poco fattibile per tre ordini di motivi. Innanzitutto si andrebbe a votare sapendo già il nome del sindaco, creando una guerra tra i consiglieri per confermare l'elezione. In secondo luogo gli elettori delle due sezioni che nel frattempo sono deceduti e chi invece ha nel frattempo compiuto 18 anni e il ricorso al Consiglio di Stato in essere in entrambe le liste hanno annunciato. Uno scenario dunque completamente mutato rispetto a 12 mesi fa. In questi ultimi giorni c'è stata anche una presa di posizione da parte dei parlamentari Giancarlo Giordano Di Selle e Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle. Entrambi hanno espresso perplessità sulla possibilità di far continuare il mandato al sindaco attuale. Filuccio Tangredi ha bacchettato tempestivamente due parlamentari replicando duramente e invitando Sibilia Giordano a documentarsi meglio ricordando che accanto alla questione amministrativa c'è anche un'indagine della procura di Avellino dove il PM Salvatore ha rinviato a giudizio tre persone accusate di aver inficiato le operazioni di voto nel comune Erpino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.